bibica! motore e partiamo! entriamo ciao! e questo che cos'è? questa è una betoniera quanti dossi! e questo che cos'è? questo è un bulldozer forza saliamo che fatica e questo? questo è un escavatore guarda! questa questa è una gru bibi! ciao bibica! oggi abbiamo incontrato una betoniera un bulldozer un escavatore e una gru! ciao! ciao!